quando si dice fare le scarpine alle mosche ecco qua il nostro nuovo regolatore in sostituzione le due resistenze volanti e l'inversione di tutti i pin adesso un bel po di colla a caldo per bloccare il tutto e facciamo il test questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni potrete ordinare al corso di soli due dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio questa sera un po più fresco e quindi ho indossato questa felpa di gran classe infatti è siglata elettronici e entusiasti veniamo al video di questa sera ricevo da saverio di bari questo pacco sul quale abbiamo scritto asus ma in realtà si tratta di un dvd recorder quindi quegli oggetti in combo che permettevano di riversare dvd su hard disk interni questo oggetto ci dice saverio che fa delle cose strane perché non si accende al primo colpo dopo qualche tentativo si accende e poi sembra andare in protezione quindi come sempre tenteremo la riparazione coglieremo l'occasione per studiare uno schema nuovo e quindi buona visione unboxing fatto molto velocemente questa volta siamo in casa lg modello rh4820v dvd recorder hdd recorder quindi da una sorgente video alla possibilità di registrare fino a 80 ore come qua è scritto qua abbiamo sul pannello frontale le diverse funzioni come pdc vps e tante altre sigle e l'indicazione della compatibilità con anche i dischi di tipo rw ho collegato la spina alla rete elettrica diamo tensione si accende questo led rosso si sente un rumore di ventole direi in avvio tutto fermo proviamo a spingere l'interruttore di accensione hello please wait d'accordo e poi la scritta scorre led verde quindi sembrerebbe esserci acceso regolarmente dopo qualche minuto abbiamo sempre la scritta please wait e mi sembrerebbe che la situazione sia stabile in questa maniera cioè questo è uno stato dal quale non sembra che ci si muova sembrerebbe esserci stato uno spegnimento proviamo noi a spegnerlo e a riaccenderlo si avverte un rumore di hard disk eh sembrerebbero proprio le testine di un hard disk sempre please wait di nuovo spegnimento e riaccensione niente la situazione sembra essere proprio stabile su questo stato anche dopo svariati minuti si rimane in questa situazione di limbo in cui siamo insensibili a qualsiasi comando e pulsante non succede assolutamente nulla quindi direi che questo è lo stato di protezione che intendeva Saverio ora apriamo il nostro oggetto agendo sulle viti poste qui dietro sul pannello posteriore e sui pannelli laterali e seguiamo le prescrizioni di sicurezza riportate qui in targhetta staccare la spina prima di rimuovere il coperchio mi raccomando sempre molto importante cogliamo come sempre l'occasione per ricordare di fare massima attenzione quando si lavora con questi oggetti perché la presenza della tensione di rete e di componenti che possono conservare carica può essere veramente molto pericolosa ecco come si presenta l'oggetto abbiamo una scheda di controllo digitale un'altra scheda digitale di interfaccia verso l'esterno l'alimentatore switching di sicuro lettore dvd e l'hard disk dovrebbe trovarsi qui sotto una prima verifica facile è la misura della tensione di alimentazione e quindi ho scollegato lo spinotto di alimentazione del lettore dvd e con multimetro siamo andati a prendere la tensione fra i fili rosso e nero e come ci aspettiamo abbiamo 4.98 quindi la 5 volt cioè ma questo più di tanto non ci stupisce perché il display era alimentato e quindi sembrava proprio che la parte digitale sia attivata sugli altri due fili che sono bianco e verde trovo meno 12 volt quindi probabilmente ho rovesciato il terminale rosso e nero di solito i colori su questi standard dal pc sono nero e giallo comunque anche la 12 volt è presente con il lettore dvd disalimentato la situazione però non cambia abbiamo sempre l'indicazione please wait permanente sul display ok ho cominciato ad alleggerire un po' i carichi quindi ho staccato i due cavi ide uno all'hard disk e l'altro al lettore dvd ora siccome abbiamo questo connettore qua sul lato componenti comodo dove arrivano le alimentazioni dalla scheda power supply e abbiamo anche indicazioni dei valori nominali qui sul circuito stampato in serigrafia andiamo a fare la verifica delle tensioni direttamente qui pin 13 e 12 misuriamo 5.097 fra il pin 12 che la massa l'11 e il 10 abbiamo 3.25 quindi questa è la 3.3 fra il pin 9 e il pin 8 e il 7 dovremmo avere 2.5 volt rilevo 1.46 questa è bassina non va bene tra i pin 5.6 dovrei avere una tensione di 1.8 nominale o 1.97 un po' più alta sembrerebbe quasi che non ci sia assorbimento quindi la tensione tende a salire oppure sta regolando male lo switching dunque delle alimentazioni fornite la 5.1 ce l'abbiamo la 3.3 ce l'abbiamo quello che non va bene sono queste due vedete che dovrebbe essere una 2.5 nominale con una corrente di 1A e qua invece è poco più della metà invece la 1.8 prelevata nei diversi pin la abbiamo presente con valore un po' più alto se misuro la tensione presente fra i pin 8 e 9 direttamente sul connettore con tutto staccato invece dei 2.5 nominali misuro 3.9 questa è una tensione a vuoto ora si tratta di capire se abbiamo un problema sulla mainboard per esempio un sovrassorbimento che fa crollare la tensione oppure se abbiamo un problema sulla power supply che per qualche motivo non fornisce regolarmente la 2.5 volt per capire chi dei due potrebbe essere andiamo a caricare il nostro power supply con un carico equivalente conviene sempre avere con sé delle resistenze di potenza di basso valore in questo caso io ho delle resistenze da 10 ohm prese da lcsc a basso costo ne ho messo un certo numero in teoria 4 per ottenere un valore di circa 2 ohm e mezzo in questa maniera con la legge di ohm 2.5 volt diviso 2.5 ohm dovremmo fare scorrere circa un ampere vediamo se utilizzando questo carico equivalente sul nostro alimentatore l'uscita effettivamente viene mantenuta a 2.5 volt oppure crolla come nel caso della cpu questo ci permetterà di stabilire appunto se è colpa del power supply o della mainboard allora la misura resistiva scusate eccola qua 2.6 ohm 2.5 ok ci siamo andiamo a collegare questo carico al nostro alimentatore ho collegato il carico diamo tensione qua la tensione è crollata a 0.5 quindi con 2 ohm e mezzo che dovrebbe richiamare una corrente di nominale di un ampere la tensione è proprio crollata quindi direi che il problema è sull'alimentatore procediamo quindi a smontare il power supply in modo che lo possiamo portare a banco e lo analizzeremo nel dettaglio l'alimentatore si presenta così partendo dal cavo d'ingresso che è dotato di una ferrite per limitare i disturbi si arriva direttamente qui fusibile filtro IMI ha due stadi infatti vediamo questa bobina di modo comune e quest'altra che è incappucciata condensatore di sicurezza ponte raddrizzatore poi abbiamo un termistore qui che serve per limitare la corrente di inrush quando la capacità è scarica all'avvio e poi da qui in poi parte la sezione di switching quindi abbiamo la parte di primario con questi due magnetici pilotati da questi due controller che sono della Infineon sono degli ICE 2B e quindi hanno un MOSFET integrato dalla parte di qua sui secondari abbiamo la generazione di tutte le tensioni che servono per il funzionamento del nostro dvd combo riconosciamo qua l'opti isolatore qua e qua per il feedback sulla regolazione di tensione in secondari la batteria di diodi che probabilmente sono degli sciocchi e quindi a bassa caduta e tutta la parte di elettrolitici infine sulla parte di secondario probabilmente abbiamo anche delle regolazioni di secondario con questi integrati e da qui i connettori di prelievo dunque visto che la nostra alimentazione sospetta è la 2.5 volt andiamo a verificare partendo dall'uscita della 2.5 volt nominale e verifichiamo come è fatto lo stadio di uscita partendo dal connettore di uscita la 2.5 volt che è presente su questi pin arriva su questo reoforo di questo condensatore C150 da 1000 micro poi tornando indietro arriva su questi 5 pin e si tratta di un regolatore LDO a bassa tensione SC1566IST che deve fornire la 2.5 volt all'ingresso di questo regolatore abbiamo il diodo raddrizzatore qua che porta questa continua per cui con il circuito in funzione andiamo a caricare leggermente l'uscita ad esempio con una resistenza di valore un pochino più elevato e vediamo se questi segnali sono presenti come tensione e corrente ho applicato in uscita un carico da 1k ohm la tensione è un po' calata se vi ricordate era 3.4 a vuoto e diventata 3.04 sotto queste condizioni andiamo a vedere che tensioni ci sono qua sul regolatore a 2.5 misuriamo tra i pin 1 e 3 3.7 questa è la tensione di ingresso tra i pin invece 3 e 5 questa tensione di uscita appunto si 3.010 quindi vedete che abbiamo una caduta di 700 millivolt ok ci può stare ho aggiunto in parallelo il carico di prima quello da 2.5 la tensione di uscita è crollata a 0.33 vediamo la tensione in ingresso 2.19 e questo potrebbe spiegare perché abbiamo questa tensione bassa cioè al regolatore deve arrivare sicuramente una tensione superiore di 2.5 è un LDO quindi ha una bassa caduta ma comunque deve essere superiore a 2.5 quindi spostiamo la nostra tensione a monte di questo regolatore seguiamo il percorso indietro dall'ingresso del nostro regolatore vediamo che c'è questa pista qua c'è la serigrafia di un diodo ma in realtà c'è un cortocircuito poi seguiamo questa pista e arriviamo finalmente a questo C114 che è un elettrolittico da questa parte quindi il positivo seguiamo ancora notiamo questa L128 quindi un'induttanza di filtro poi seguiamo ancora la pista ed arriviamo qui sul diodo D131 che dal secondario del trasformatore T101 va a creare questa alimentazione della 2.5 lo schema dunque dovrebbe essere questo per il tipo di comportamento che abbiamo visto cioè appena andiamo a tirare un po' di corrente verso il carico questa tensione, questa tensione scusate, crolla mi viene da dire che questi due elettrolitici sono sospetti quindi andiamo a verificarli vedendo la misura in circuit del condensatore rileviamo solo la ESR 0.96 invece la capacità non viene rilevata ma questo non è detto che implichi per forza che il condensatore non sia buono perché è comunque all'interno del circuito quindi lo andiamo a disaldare C113 dovrebbe avere una capacità di 1000 micro e 10 volt viene rilevata 592.2 micro farad quindi il condensatore è decisamente in perdita l'ESR invece sarebbe anche accettabile perché è 0.68 abbiamo un ammanco di capacità C114 invece il condensatore che è proprio all'ingresso del nostro regolatore ha 29.7 di ESR e la sua capacità non è rilevabile quindi questo è proprio andato questo stava per andarsene ma questo veramente non è più un condensatore ecco che quindi questo spiega questo comportamento di una tensione che crolla appena assorbiamo un minimo di corrente andiamo a sostituirli con dei condensatori da 1000 micro questi sono dei 10 volt adesso vedo se ho nel cassetto dei 16 o anche dei 25 volt di buona qualità infatti visto che sono passati degli anni se il package più contenuto lo permette alzare la tensione di lavoro del condensatore significa aumentarne la affidabilità infatti sappiamo che il numero di ore di un condensatore il cosetto lifetime che è un parametro che si trova a datasheet è fortemente dipendente dalla temperatura sicuramente ma anche dalla sua polarizzazione quindi quanta tensione barra corrente circola nel condensatore rispetto ai suoi massimi quindi alzando un pochino la tensione massima lui lavorerà in una zona più tranquilla sostituiamo i due condensatori elettrolitici con due condensatori con una tensione di lavoro 25 volt quindi 1000 micro 25 volt condensatore allo stesso diametro e un'altezza superiore ma in questo caso l'altezza non è assolutamente un problema perché avete visto che la scheda ha componenti che hanno altezze anche superiori rifacciamo la nostra prova diamo tensione qui ci troviamo con un kilom 3.1 attacchiamo il carico da 2 ohm e mezzo e no purtroppo crolla ancora 0.6 secondo me potrebbe essere che con i condensatori messi così male anche il regolatore ne abbia risentito andiamo a vedere la tensione in ingresso al regolatore ecco la tensione presente sul pin 1 del nostro regolatore siamo con una resistenza da 1 kilom e abbiamo 3.9 andiamo ad attaccare il carico è già vedete 3.2 questa è buona ma con una tensione del genere il nostro regolatore a 2.5 deve funzionare e invece crolla va a 0.7 quindi qua abbiamo un problema sul regolatore sull'LDO dissaldiamo quindi il regolatore da 2.5 e andiamo alla ricerca di un suo sostituto vediamo cosa ci offre il mercato e a che prezzi visto anche il periodo osservando il datasheet del regolatore Semtec SC1566 vediamo che ha anche un pin di enable quindi al pin 2 deve essere presente una tensione tale da poterlo attivare inoltre l'uscita VO è regolata in base al valore di questo partitore resistivo posto sull'uscita e formato dalle resistenze R1 e R2 secondo questa formula quindi andiamo per prima cosa a vedere che tensione è presente sul pin di enable considerando che il valore minimo per attivare il nostro regolatore da datasheet è specificato qua eccolo enable pin threshold 1.8 quindi deve esserci almeno quella tensione considerando una tensione in ingresso di 3.3 volt come condizione di test prima di rimuovere il regolatore ho fatto una prova giusto per essere sicuro che quel livello di tensione non sia anche dovuto a un segnale di controllo che arriva da un'altra scheda infatti il regolatore poi ho visto che sul pin 2 è collegato con una resistenza a un segnale di controllo che arriva dall'altra scheda fornendo l'alimentazione l'anomalia rimane presente infatti rimane scritto please wait e la tensione misurata sul connettore è salita da 1.4 a 1.7 quindi l'effetto benefico dei condensatori si vede ma ancora non abbiamo la 2.5 la tensione rilevata tra i pin 2 e 3 è di 0.65 volt e questo spiega effettivamente che non abbiamo l'uscita come si deve ora si tratta di capire se è un problema del regolatore o del circuito esterno per capire se il regolatore è guasto forziamo dall'esterno una tensione in modo da abilitare l'enable quindi poco più di 2 volt sappiamo che la soglia è a 1.8 e vediamo cosa accade la tensione la applichiamo sul piedino CTL quello che è collegato tramite una resistenza al piedino 2 quindi fra il piedino 2 e la massa questa volta vedete abbiamo 2.2 volt andiamo a vedere l'uscita 3.8 no direi che il regolatore non sta funzionando perché con questa situazione dovremo avere 2.5 volt stabili il regolatore della Semtek SC1566 è molto difficile da trovare e costa anche parecchio ho trovato un'alternativa pin to pin compatibile che è il TPS 758 della Texas Instruments ma anche questo costa circa 6 dollari più 20 dollari di spedizione quindi prima di imbarcarci con una sostituzione che magari non è detto che risolve il problema andiamo a fare un altro test al posto del regolatore saldo 2 reofori dove andremo ad applicare la 2.5 volt forzata con un generatore esterno quindi fra il pin 5 Vout e 3 GND ho acceso l'oggetto solita scritta please wait collegato all'alimentatore esterno il voltmetro misura una tensione di 0.5 volt ora alziamo la tensione lentamente tenendo sotto controllo la corrente sappiamo che non deve superare un ampere quindi vediamo cosa accade 1 volt e 9 piano piano 2.2 2.4 attenzione 2.47 assorbimento 310 mA potenza 767 mW con questa tensione forzata dall'esterno ora abbiamo un led verde che si è acceso qua sulla scheda principale surprise surprise sul display PR01 quindi è cambiata la funzione e adesso vedete che abbiamo la sensibilità ai bottoni ad esempio se spingo il tasto play parte in riproduzione questo brano verifichiamo la movimentazione del carrello eh sì operativa quindi la mancanza della tensione a 2 volte e mezzo era la causa dell'anomalia riscontrata a livello generale inoltre osservo che la corrente assorbita su questa alimentazione è aumentata perché si devono essere attivate anche le altre funzioni per il reperimento dei regolatori a 2 volte e mezzo alla fine ho optato per un'altra soluzione grazie al mio amico e preferito Field Application Engineer Francesco De Andreis di Arrow ho recuperato questi LDO l'amico Francesco ha procurato dei regolatori della Linear LT3086, LT3081 non sono pin to pin compatibili vediamo quale scegliere come primo candidato e che modifiche dovremmo fare per utilizzarlo nel nostro circuito i due regolatori hanno caratteristiche molto simili perché sono in grado di portare una corrente di uscita fino a un ampere e mezzo possono regolare la tensione utilizzando delle resistenze opportune e accettano un range di ingresso abbastanza ampio da 1 volte e 2 a 36 volte per scegliere quale dei due modelli guardiamo il parametro che a noi interessa di più in questa applicazione che è il drop out voltage ossia la caduta di tensione tra ingresso e uscita che deve essere il più bassa possibile nel datasheet del 3081 troviamo un dato tipico di 1 volte 2 molto alto nel LT3086 invece abbiamo come drop out voltage una figura tipica che a seconda della corrente di carico viene specificata qui nel caso nostro sappiamo che siamo nel range fra 500 mA e 1,5 A e vedete che il drop out voltage è molto contenuto si parla di 150 mV 260 mV quindi opteremo per questo regolatore seguendo le indicazioni del datasheet guardiamo le connessioni che dobbiamo fare per attivare il nostro regolatore con un'uscita 2,5 V è disponibile in package TO220 a 7 pin cominciamo dall'ingresso pin 5 collegato alla VIN pin 6 è un pin di shutdown under voltage che se non utilizzato possiamo collegarlo alla IN pin 7 temperatura questa è un'uscita del regolatore che fornisce una tensione proporzionale alla temperatura del DAI quindi per eventuali protezioni termiche non lo useremo possiamo lasciarlo non collegato GND lo portiamo a massa ILIM pin 1 è la funzione di limitazione della corrente se volessimo fare in modo che il nostro regolatore ha arrivato a un certo valore di corrente si protegga dovremmo polarizzare questo pin se non lo utilizziamo lo portiamo a massa pin 3 Vout pin 2 set questo è l'ingresso del regolatore per impostare il valore della tensione di uscita bisogna calcolare una resistenza opportuna per far sì che la nostra tensione di uscita sia pari a 2,5 V per il calcolo del valore di resistenza da impostare per ottenere 2,5 V il datasheet fornisce questo schema dove vediamo che il pin set è collegato all'ingresso invertente di un amplificatore di errore il quale ha il pin non invertente collegato a un reference di 0.4 e il pin set ha un current source con 50 microampere quindi la formula di calcolo per questa resistenza è tensione di uscita meno 0,4 V diviso 50 microampere se impostiamo 2,5 V in uscita la resistenza R7 vale 42 Kilo per verificare la corretta regolazione di LT3086 lo porto su basetta prototipale e eseguo tutti i collegamenti per la resistenza R7 utilizzo due resistenze in serie e ottengo un valore di 41.4 Kilo quindi un pelo più basso in ingresso fornisco una tensione abbastanza bassa 3.17 per vedere la capacità del regolatore di lavorare a basso drop out in questo momento abbiamo una corrente assorbita di 228 mAh di fatti ho caricato l'uscita con una resistenza di potenza da 10 Ohm e l'uscita impostata dal regolatore è di 2.420 ora vario il valore della tensione in ingresso ad esempio qua mi trovo a 3,5 V 3,7 V vedete che varia leggermente la regolazione comunque la capacità di regolazione direi che è discreta qua mi trovo a 4,5 V in ingresso ma se non mi ricordo male il nostro alimentatore sul combo DVD in ingresso aveva delle tensioni abbastanza basse anche quando caricate ho modificato leggermente il valore della resistenza per tenere conto degli assorbimenti più elevati possibili avevamo visto che c'erano circa 600 mAh un altro elemento molto importante è il condensatore in uscita che ho messo di un valore di 100 microfarad infatti senza questo condensatore appena la corrente in uscita supera i 150 mAh il nostro regolatore entra in protezione tirando giù l'uscita invece con un minimo di capacità tutto va bene facciamo adesso le prove con il carico elettronico con un valore della resistenza R7 pari a 44 Kilo abbiamo una tensione di uscita a vuoto un pochino più alta 2.64 ancora accettabile per quel tipo di oggetto ma se andiamo a carico e imposto una corrente ad esempio di 600 mAh vedete che il regolatore ha una piccola caduta ulteriore stiamo assorbendo 600 mAh sulla 2,5 V una potenza di 1,5 W tenete conto che questo valore è anche abbassato legato al fatto che uso dei cavi di collegamento che non hanno una resistenza trascurabile per cui avremo un po' di caduta di tensione con questo tipo di corrente ora dobbiamo adattare il nuovo regolatore al circuito stampato sul circuito stampato abbiamo in posizione 1 l'ingresso in posizione 2 enable che non useremo in posizione 3 il ground in posizione 4 adjust che non useremo in posizione 5 la tensione di uscita quindi dovremo portare i pin 6 e 5 sull'1 infatti questi sono i pin del regolatore di ingresso dell'LT3086 pin 1 e 4 il ground li porteremo al pin 3 il pin 2 che è l'ingresso set con le due resistenze da 22K li porteremo direttamente a 3 che è l'uscita quindi la retroazione, la misura e impostazione dell'uscita la facciamo direttamente qua e il pin 3 del nostro regolatore nuovo lo andremo a portare nel pin 5 del circuito stampato che è la tensione di uscita ecco il nostro piccolo regolatore Frankenstein abbiamo tagliato il pin 7 che non lo usiamo quello della temperatura pin 5 e 6 saldati insieme con questo reoforo andranno a formare il futuro pin 1 poi abbiamo le due resistenze che mettono in comunicazione il pin 2 e il 3 e formeranno l'uscita VO sul pin 5 quindi poi fanno questo giro e vengono da questa parte infine il ground abbiamo pin 4 e pin 1 saldati dietro e portati nel pin centrale che sarà il 3 quindi alla fine abbiamo i nostri tre pin finali e se tutto va bene ovviamente andremo a inglobare il tutto con direi colla a caldo in modo da creare un monoblocco qua sulla parte che non scalda ho saldato il regolatore e l'ho orientato in modo che sia massimizzata la distanza fra i suoi tre pin verifichiamo la presenza della tensione sul connettore della nostra 2 volte e mezzo quindi dovrebbe essere questo pin qui 2.65 ok quindi il regolatore sta funzionando ragazzi e come sempre è giunto il momento della verità ho ricollegato tutto adesso diamo la tensione a 230 in ingresso e teniamo sotto controllo qui il led verde attenzione via sì eccolo luci sulla città led verde hard disk parte quindi significa che la nostra 2.5 ha riattivato tutta l'unità di controllo e siamo operativi andiamo a verificare ora le funzioni finali se effettivamente sono tutte disponibili e funzionanti come avevamo visto prima con l'alimentazione fornita da esterno dopo i convenevoli quindi please wait HDD check il check è passato PR01 e quindi pronto per partire carrello perfetto quindi è tutto operativo adesso andiamo a fare una prova giusto per vedere il segnale video effettivamente se esce ecco la misura della tensione a carico come vedete 2.537 quindi perfetta il segno meno è perché ho invertito i puntali tranquilli comunque a carico il nostro regolatore sta fornendo questa tensione ho collegato l'uscita via scarta alla mia carissima vecchia tv CRT che usavo con il Commodore 64 andiamo in play tac ecco qua il segnale video fantastico ecco saverio mi perdonerà spero di non violare la privacy comunque questo era uno dei contenuti contenuto nel hard disk quindi il segnale video esce perfettamente e abbiamo risolto il problema ecco il monoblocco di colla a caldo che ci garantisce che le vibrazioni non daranno fastidio a questo montaggio volante e le parti che devono dissipare come la letta e la parte posteriore sono libere questi materiali ebbene che abbiano un ottimo grado di isolamento bene e con questo termina il video riparazione su questo DVD HDD recorder della LG come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao ciao ciao